allora cominciamo da max per il tuo ruolo di politico senza scrupoli ti sei ispirato a qualche personaggio in particolare no non mi sono ispirato a nessun personaggio in particolare primo perché era scritto molto bene e quindi ben connotato è una buona sceneggiatura già ti dà un bel tappeto su cui poter camminare fare tutti i tuoi esercizi e poi perché comunque c'ha dentro tutte tutte le caratteristiche gli ingredienti che servono per connotare un personaggio come quello avendo io queste corde l'ho sentito molto bene mi è venuto anche simpaticamente facile per paolo invece è stato più facile o più difficile girare con un amico come max è stato è stato facilissimo anche perché è un amico che io cinematograficamente non avevo mai frequentato prima di oggi con grande stupore reciproco perché ogni volta che si incontravamo ci sentivamo per qualche motivo ci sono com'è che non facciamo un film insieme ma possibile che non che non ci facciano fare un film insieme a me e a te se non altro per una questione di compatibilità fisica perché noi siamo oltre le nuvole quindi un attore alla mia altezza max tortora e posso dire anche il contrario pensa che rapporto avete con il capodanno una festa che amate o invece non vedete loro che sia il giorno dopo la seconda che hai detto per forza perché questo obbligo di divertirsi e di festeggiare non si sa bene cosa qualunque tragedia e tu stia vivendo in quel momento è lancinante tutto sommato questo film racconta questo non a caso si chiamano feste comandate perché ti comandano di essere qualcosa che non sei non necessariamente sei magari qualcuno lo è felice a capodanno per carità sicuramente c'è però l'obbligo di esserlo già lo trasforma in qualcos'altro grazie